... Parte piano l'otto di Ritmo Griffi. Partiti. Galoppa il 4 di Regina Fornis. Galoppa anche il 6 di Rocky FP. Ed è il numero 5 di Rosanna Frilotta ad andare al comando nei confronti di Rulrette russa. Galoppa anche il 3 di Rossella RG. È partito bene l'11 di Riverby Power. Nelle prime posizioni c'è anche Romito Lung. Galoppa Rosanna Frilotta e quindi Rulrette russa si trova al comando ma viene via subito Romito Lung. Deve ripiegare perché Forino fa intendere di voler correre al comando. Nelle prime posizioni c'è il 12 di Reimo Jet e in seconda pariglia risale anche il numero 10 di Rombo di Tuono. Andiamo a vedere il riferimento cronometrico. I primi 600 passati in 46 e mezzo con Rulrette russa al comando. Un po' pigro oggi l'allievo di Raffo Forino. In seconda posizione c'è Romito apparigliato però da Regina Fornis. è in posizione da sparo il numero 10 di Rombo di Tuono. Ancora un paletto molto lento. 1-4 con Raffo Forino che conduce mentre in seconda posizione Antonio Esposito sta ancora attendendo per venire via in terza ruota. Ci prova proprio ora il buon Antonio. Viene via in terza ruota ed ha il chilometro con Rulrette che scappa in 1-20-3. Un 16-1 di ultima frazione Rombo di Tuono agguanta la Rulrette per Barchi Romito Lung. E guadagna internamente anche il 11 di Reverby Power. E ora Rombo di Tuono appariglia Rulrette. 1-34 si è andato davvero di passo con Rombo che sta dominando la resistenza di Rulrette. Mentre Romito Lung si avvicina. Il resto non c'è più. Si entra così in retta d'arrivo con Rombo di Tuono ed Antonio Esposito che passano chiaramente al comando su Rulrette. Si avvicina Romito. E che tuono! E che tuono! Rombo di Tuono ed Antonio Esposito vengono a concludere chiaramente. Per il secondo il 2 di Romito battezza il numero 7 di Rulrette Russa. 2-3 un 28 e si è acciudero. Si è corso solo per 600 metri. I 600 metri che fanno uscire fuori due categorie. Meglio Rombo di Tuono rispetto agli avversari. Non male Romito Lung che oggi in categoria un po' più ardua. È riuscito comunque a prendere un ennesimo piazzamento. Bene anche la Rulrette. È tutto per l'ottava di Foggia. È tutto da Foggia. Un saluto da Ivan Aldenese si chiude nel segno di Antonio Esposito 90 o meglio il bambolotto. È tutto. Grazie. 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 Grazie.